La vicenda giudiziaria, non posso parlare, ma sarebbe anche difficile parlare. Quello che posso dire è che la vicenda è stata veramente dolorosa, anche impressionante nella sua dinamica. Cosa si può dire rispetto a questi fatti? Qua veramente subentra un problema di dolore umano, per quella che è una tragedia terribile.